Ah, Mastery, haha! Ah, ce l'ho anch'io! Bravissimo! Ah, Mastery 4, mi sa, eh! Eh sì! Siamo povere, comunque devo startare dalla top lane! Mediocrità! Questi invadono! Credo di essere un bravo ragazzo! Triggerato! Ah no! Luca, mi devi pullare! Ti affido questo compito! Pullo tutto, mate! Esatto! L'ha detto 5 lag 5, quindi devi farlo! Ok! Di di fare più episodi e vi presento il mio ragazzo! Eh no! Una settimana, sennò mi finisce subito la serie! Eh, volevo dire, sennò... Non c'è sfizio, no? Sì! Giusto! No dai, una settimana però io vado tanto avanti nel gioco, eh! Cioè, a ogni puntata! Guard! Perché dovrei guardare, Dani? Sembra poco, ma in realtà taglio un sacco di dialoghi inutili e stupidi per far andare avanti la storia! Sennò stanno tipo tre ore a pensare! Mi amare, mi amare! X di oddio! Minchia, è vero! Una settimana intera stargli a pensare! Mi ricordo, il tuo primo video di vi presento il mio ragazzo lo son guardato tutto, era triggerato! Ho anche commentato quale secondo me era migliore! Tre ragazzi da scegliere! Alla fine comunque... Alla fine della serie... Spoiler! Quindi si deve guardare ancora la prima stagione e si attappe le orecchie ora! Tappatevi le orecchie chi si vuole guardare la prima stagione! Alla fine della prima serie non scegliamo nessun ragazzo perché Gabriel ci delude! Il frecciatino! Ok grazie, vai pure, vai pure! Ottimo! È quello che volevo sentire! Eh ma mi sa che la... Però se permetti io sono quello che può usarla! Perché la meme è... Cioè è su di me quindi io uso la meme del triggerato! Ok! Fai pure, tranquillo! Cioè in realtà pare che la meme sia di Simone però... Facciamo finta di niente, diciamo che è Disneytex giusto? Vabbè è come un po' la meme che non so di Ghissi che era di Masa però poi è diventata mia! Cioè che domande sono ma... È come la televisione che fa diventare famose le cose! Sono un po' così capito? Hai ragione anche te! Vladi, io ti voglio bene però un autoattacco e una Q non può togliermi mezza vita? Cioè è un attimino rotto o sbaglio? Vabbè non vedi la sua itemizzazione? Consentimi! Codiamoci un po' di passiva ragazzi! Hai 19 di AP, porca pittà! Oh è tanto eh! Eh sì sì, non ho dubbio! No ma non spoilerare! Ha detto tappatevi le orecchie chi vuole che è interessato! Ti bastava mutare l'audio, cioè... Dai Vladimir, push! Premi la E e push! Allora, tiriamo su di nuovo la E! Che serie era? Come che serie era? Che serie è? Vi presento il mio ragazzo di Snitex! Cioè ti sto anche facendo pubblicità Luca! Guarda mid, guarda mid, guarda mid! Ho bustato! Grazie! Grazie! Capito! A me l'ha detto che sono bustato! Sei arrivato a 12.000 vedi? Sì! Che bustato ragazzi! Che schifo! Ma me li merito tutti! Ah, facciamo così e... Facciamo un video insieme che io ho un po' di meno! Ok? Quindi mi farebbe comodo essere un po' bustato da te! Anzi, sai cosa devi fare? Devi mettere più like ai miei video! Così la gente grava sul tuo canale! Vedi? È giusto! Mamma di box! Mi dimentico sempre di mettere i like ai video! Io in realtà! Ragazzi io sono molto triggerato da... Ha presciato mid! Da cosa sei triggerato Luca? No, Vladimir in realtà... Cioè mi sta triggerando! Male! Lee Sin! Vote! Lee Sin cosa combina quel Lee Sin? Vi sta gancando eh! Occhio! Eccolo lì, attenzione! Ecco! Ecco! Non si sa come abbia fatto a fare qualcosa con quel gank! Non so farmare, non so gancare, non fare nulla! Eh vabbè, io ho 14 milioni farmati! Quindi mi stai dicendo che lui ne ha di più! Ne ha circa 10 in più! Che cosa è stato bene a casa? Più che altro ti direi ha finito il mana ma... Non ce l'ha! Oh! È quello che volevo sentire, vai! Ha ganker a top dopo quello che mi hai detto! Cioè non c'ha mana! Ma non ho attaccato... Vabbè! Mi sa che non ti ganker a top invece! Vieni, vieni! Ora lui va a salta torre, io lo... Io ho flash e uso la... No, no, boh! Faccio go! Ma quant'attura ha? Sicuro? Aspetta che usa la Q! Ci sono! Ok, minion! Ma che cosa... Dai! Come? Perché non è morto? Siamo seri? Si è curato all'ultimo! Che sfida! Eh, vabbè! Però che palle! Ha usato la... La Q proprio a caso! Grage! Clashion! Per loro! Uh! Quanto è campato! Forse avevo sbagliato a fare quella di prima! No, mate! Non fregarmi il fondo! Ha capito! Prendevano i minion quelli! 7 minion e la 34! Oh! Niente! C'è l'issine dietro di te! Sei... Sei mo... Vabbè, io sono full vida in realtà! Cioè, non penso ci venga! Speriamo! Porcovra che non parte l'autoattacco di questa poppy di merda! Mid tra poco ha il 6, quindi state attenti al clone! Allora... Siamo... 1-1! Di non... Di non schiattare troppo dalla... Occhio, occhio, occhio! No! Non mi fa nulla! Sono un po' bit! Sono poppy contro l'issine! Snitex, stai facendo... Interferenza! Bling, 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 bling! Oh! Eccolo l'issine! Sì! C'è una piccola interferenza! Non ero io! Ah! Lo scudo! Mid non ha il flash, quindi... Appena il 6, ragazzi, facciamo strage qua, eh! Con il gara in giungla! Tanto c'era... Ce l'avrà di simi il... Dai! Che cura era! Che cura era! Mate! Meta vita! Meta vita! Da fuck! What? Eh, comunque... Purtroppo è la cura di Vladimir! Con le stack! Ho capito! Mate! Ti giuro è la metà vita! Oh, non riesco a farmare, è una cosa indecente! Vado a farmi red! Eh... L'issine della parte bot, eh! Ah! L'ebola! Brutta storia, l'ebola! Mi dispiace, Dick! Però posso dirti che se non fossi di colore... ...non avresti l'ebola! Dici che è quello? Sì, sì! Sì! No, ma lui... Lui si è fatto solo cooldown ed action! Cioè, proprio... Bravo ragazzo! Sì, proprio... Non mi... Non mi interessa molto quello che tu vuoi fare! Io voglio spammare! Non ha tutti i torti! Di fin stava qui, eh! Sto vedendo che quando parli, tipo, non si capisce niente! Ha fatto tipo una cosa strana! Vabbè! Manca le blanck, sta al blu probabilmente! Spero che non sia il mio... Oh! Lissintop! Vabbè! Too late, mi sa! Lissintop, dove? Arriva! Stai attento, è qua! No, no, no! Va bene! Può venire quando vuole! Ricordati che c'è una W e... E' a posto! Ho la ulti! 20 secondi ogni height, uccidiamo... Peccato! Eh, vabbè raga! Guarda Vladimir! Si sta attaccando la torretta, si è attaccato 4 colpi di torretta all'otto! Dov'è lb? Ok, niente! Però non ha fatto niente lissint, eh! Cioè, l'abbia solo dai vado a cosa! Si, ho visto! Lissintop non mi ha fatto niente! Questo solo assist ti ha tenuto fermo per lui! Non mi ha tenuto fermo! Forse non mi voglio stare... Io non so chi cazzo riancare, sinceramente! Luciano, Luciano, Luciano! Manca le blanque, manca le blanque! Non so se puoi lasciare blanque e mi rifri farmare! Te lo dico, io ho 37.000, lui ne ha 63 ed è 2-1! Sto arrivando botte a far strage! Non so se ti va bene queste cose! Campato a 1! Ho spegnato la torre! Oh! Good! La torre mi ha shottato! Oddio! No, vai via! No, via via! Ninja, attenzione! Eh, ma le blanque sai quanto è bilanciata questa cosa nerda nuova? Può anche mancarmi tutto, ma mi uccide comunque! Il forgiving! Mi ha mancato tutto, ha fatto W, il marchetto Q, metà vita! Oh, le blanque top! Le blanque top! Scappa, scappa, scappa! Non mi sembra che a vladimir servano dei gank, sono molto onesto, giuda! Quanto sta? Oh, la ulti non ce l'ho! Quindi dovremmo riuscire a ucciderla! Mite, sei morto in top! Eh, ma guarda quanto sicura, raga! Non ha senso! Wtf! Ve lo giuro, non ha senso! Non ha proprio senso! Cioè, avete visto quanta vita aveva? Metà vita! Cioè, io non so cosa fare! Dovevi gankare prima! Eh, ho capito! Ma... Io stavo arrivando... Si ganka early, non si ganka middle! Qua che te la push o te la freeze? Freeze! Oltp! Ah, te la lascio lì direttamente! Porco il demonio! Ma azzeccale le combo! Non azzecca una combo e mi uccide comunque! Dio mio! E' scandaloso! Oh, che stress! Gara in jungle, ragazzi! Non sempre work nel migliore dei modi! Ma però sono tra i due! Forza di ultare la gente! Non è finito, grazie! Dove minchia è la partner! Chiedete la Twitch, ragazzi! Iniziate tutti a inviare una mail a Twitch e cagate il cazzo perché Fierica ancora non ha la partner! Ma hai bloccato la qualità! Perché dovrei bloccarla se dipendesse da me? Non è molto! Mi prende il 6 minion, manca le cose! Ah, c'è la warp! Finché non mi dà la partner non è assicurato, ragazzi! La... Quindi sì, c'è il multi quality! Multi quality! Oh, lì sì! Risco di arrivare in tempo! Beh, non penso faccia molto, appunto! Sto cercando di arrivare il più veloce possibile, niente! Manca le blanque! Ok! E poi, se lui non c'ha quella cacchio di cura stupida, fa tipo schifo al cacchio questo ladio mio! Sta solo spammando la Q, non sta lasciando la missa tutte le... Non so se riesco ad aggancarla, questa! Le dice un qualcosa? Eh, niente! Ma più mai vuti, faccio il QPD, ciao! No, non è indecente, non ha le mani eppure riesce a uccidermi! E basta! E basta! E basta mettermi il marchio! Penso che mi builderò a QP e poi non ci puoi visto! Bot, non c'è più nessuno! Guncar è impossibile, ragazzi! Ho provato a tornare top, però mo' che arrivo! Sta venendo top le blanque, sta venendo top! Un'altra corrente! Ciao! Poi sta facendo il mio red, chi lo sa! Oh, arrivo, arrivo, arrivo! Però ha missato tutto perché è scarsa come la fame! Ahah! Hai visto com'è la mia lane? La mia lane è quella della mia lane, manca tutto e muoio comunque! A me ha... ha preso solo il punto e il click a me! Cioè, proprio siamo a questi livelli di disaglio! Sta arrivando, Ninja! C'è anche Lee Sin, ti chiude! Guarda! Ma è che è silenziato il ragazzo! Sta arrivando anche Vladimir! Eh no, eh! Cioè, l'hai visto questa le blanque? L'hai vista? Sì, è un po' un po' scarse! Ha fatto QW ma ha tolto tre quarti di vita! Oppala! Oppala! Le doge! W? No! No! No, proprio... Zero damage! Del resto sono full addimica per nulla! Ho l'ulti adesso! Avesse avuto l'ulti li uccidevamo entrambi! No! Se io aspettassi che lei mi facesse la combo... Eh... Non ho mai scarsa! Scarsa! Sì! Io del dubbio ho iniziato ad attaccare tutte e due con la rotella! Però... Vabbè! Mi meritavo la kill lì! Vabbè, dici, posso giocare pure io Vladimir? No, vabbè, non lo so! Non lo so! Staci, staci! Tranquillo! Tranquillo! Non lo so! Posso provare a tornare top! Manca le blanche! State attenti, per favore! Se vi chiedono bot fanno il trick eh! Quindi occhio! Porca puttana! Oh, lì si in top! Lì si in top! Facci! Eh, ci ho provato! Uh, ho usato l'ultima! Sto coglione! Very good! Vieni a ghancare di nuovo! Very good, ragazzi! Così! Anzi, se mi faccio questo io poi prendo lo static! Dai, ti aiuto! Con questo! Ok, grazie mille! Vada pure! Organo, la ulti? No! L'ho usata su di me! Visto ragazzi quanto è forte! Olè! Becchiamo con l'ai attiva! Sei the god mate! Ah, mi sa che non me lo faccio! Lo sta... Ah sì invece! 2006! Pensavo 2007! Buono! Che fatica! Che fatica! Sta partita! Muori puttana di merda! Oh, il ninja! Oh, il ninja! Le offese! Cioè, non l'hai vista la mia vita! Questa è la mia vita! No, no! Tu di! Criticare senza offendere, ninja! Ha mancato la W? Ha mancato... È uscita a mancare la W, eh? È grave con le blank mancare la W? Ok, good! Vuoi una mano pushare, ninja? Così... No, no, non serve! Va bene! As you wish! Se la risina è rw, ritorno a metà vita! Che champ stupido Mundo! Così a caso! Dalla chat! Infatti è un champ da Snitex! Sto giocando Mundo! Allora un po' di persone si stanno arrabbiando! Ci sta, ci sta! Guarda la cura! Guarda che cura ridicola! Sei ridicolo! Ridicolo! Snitex! Tanto lo distro... Occhio alla cura! Vattene! 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 È guardato il tribush che tu sappia! Perché se non lo è lo... Lo violentiamo pesantemente! Vediamo subito! Let's go! Let's go! Manca le blanc! Rom! Cos'è sta cosa? Ultalo per favore! Grazie! Tranquillo! Aspetta quell'attacco la che se avessi ultato subito lo correva la ulti e l'avremmo preso nel culo! E invece è così! Dai, aiutami! Dai, aiuta top! Sì, grazie! Non giocemi top! Adesso mi faccio il morello così le cure di Vladimir! Ottima idea! Il morello già ce l'ho io, non ti preoccupare! Oh vabbè! Come faccio a gankare Vladimir senza? Può farmelo! Ottimo! Ma dovremmo guardare la piossa! Il gank mid? È lui? Vai col fast queen! Vai col fast queen che arrivo anch'io! Eh, non ce l'ho ora! Peccato! Vabbè! Ha veramente flasciato! Va bene, va bene! Oh, guarda bot, guarda bot! Comunque Vladimir è completamente sparito eh! Ok, è tornato! Si è risolto! Quelli stavano tipo appoggiati al more come se davanti fosse Hitler della serie Fucilaci tutti! Siiii! Per favore! La domanda è perché siete tutti qua? Te lo facciamo vedere noi adesso! Ecco! Visto! Guarda, guarda! Questo qua lo puniamo! Visto! Così impara! Per quel motivo li sono arrivate le guardie del corpo, guys! Ma se mi facessi tre code di cavallo tutto accederebbe! Boom! Silenziata la ragazza eh! Non sto attaccando la torre, ok! L'altro lo voleva guardare, poverino! Ah, il drago! L'Ebola! Corri! Sto esplodendo, ragazzi! Picchio, però se muori poi ti diciamo che lo stai facendo per le use, quindi... Hai ragione, meglio di no, quindi! Quindi per favore, contienti! Guarda di meno, ma dopo un po' non ti stufi! Cioè, in generale! Cioè, proprio di vivere! Non ti stufi! Cosa mi... no, mi servono ancora 30 gold! Che palle! Mannaggia! Vabbè, basta temporeggiare! Vai qua! Piazzona guarda! Vai a disturbare questi! Weiwei! Che facciamo qua? Ecco! Ho i 30 gold! Andiamo back! Anziché aspettarli in base mi sono reso utile, ragazzi! Visto! E io me lo tolgo lo slow! Come la mettiamo? Strano! Quando ti hanno gancato 15 volte in tre! Eh, coglione! In mezzo di mid! Di warjump! Aio! Bella la tua build a Blandanderer! Devo dire che è proprio... Molto simpatica! Oh, ho sciotti le blanche così! Sono contento! Ho ho sciotto quasi tutto! A parte Vladimir! Uff! Parito Vladimir! Olè! Good! Ladri a noi! Prendete lo static! No, guarda mia quella static! Hai visto che cattiveria! IT inclusiva! Ragazzi, allora non vorrei dirvelo! Ma ho appena scoperto che utilizzare la W sulla W di Vladimir gli impedisce di utilizzarla! Cosa? Cosa stai dicendo? Te lo giuro sulla madonnina! Occhio che è sicuro adesso eh! Non è un dash! Eh, con il dubbio! Banhammer proprio non ha poi raspanti! Era proprio l'odio! Quello, te lo giuro, era proprio l'odio! Quello, te lo giuro, era proprio l'odio! Quello, te lo giuro, l'ho fatto solo perché l'odio! Mi sarebbe bastato... Nice timing, vp! Sala, gattala, biribiri di scudo! Dai, disini, riprova, riprova! Sarei più fortunato! Ma questo era il stale... Ah! Il surrender! È Gary in jungle, ragazzi! Cioè... Di che stiamo a parlare, dai! Io sono contemperato da questo là, diventano un disfatto di me stesso! Mi sembra strano che puoi bloccare la W di Blimey con la W di Poppy! Sono triggerato, ma contento! Ok, guys! Questo è quanto! Ho fatto meno danno di tutti, ma ero in jungle del resto! Oh, ho finito gold 5! Catto! Gold 5, onesto! Io bronzo 3! Io bronzo 1! Io bronzo 1!